Sandro Botticelli, responsabile marketing entry del turismo tailandese. Dopo 15 mesi ci siamo messi alle spalle il periodo peggiore probabilmente della nostra vita. Primo di luglio, tra poco più di due settimane, riapre Phuket Beach. L'isola di Phuket diventerà isola covid free e sarà la prima località, la prima destinazione in Thailandia aperta al turismo internazionale. Al momento bisogna essere vaccinati da almeno 14 giorni e partire con un tampone negativo non antecedente alle 72 ore dalla partenza. Si arriva a Phuket, si può tranquillamente girare e spostarci per tutta l'isola e quant'altro per 14 giorni. Al quindicesimo giorno si fa un altro tampone e se è negativo si potrà poi visitare tranquillamente il resto della destinazione. Non c'è obbligatorietà di rimanere 14 giorni, logicamente se si vuole fare una permanenza di 5, 7 o 10 giorni a Phuket questa è possibile. Però la grande novità, la grande notizia è che finalmente la Thailandia apre al turismo internazionale. Phuket è la prima destinazione, è il primo di luglio, da ottobre poi avremo altre province del sud e non solo e poi diciamo che da novembre, dicembre probabilmente tutta la Thailandia sarà vaccinata e a quel punto potremo tranquillamente spostarsi per tutta la destinazione senza nessuna restrizione. Siamo qui alla BMT per il quinto anno consecutivo, finalmente si torna in una fiera in presenza e questo è un altro segnale che effettivamente si torna a viaggiare e si torna a tornare a viaggiare in Thailandia. Grazie, buona giornata.